Un decalogo di proposte da recapitare ai candidati sindaco di Napoli da parte degli imprenditori e delle categorie professionali della città. È l'iniziativa messa in campo dalla Fondazione Banco di Napoli per dare il proprio contributo in questa delicata fase politico-amministrativa, dar voce alle esigenze dei tanti giovani che intendono investire e rimanere a Napoli. Invece in Fondazione Banco di Napoli, che è un luogo neutro, dove hanno lavorato dalla scorsa primavera tanti ragazzi che rappresentano le associazioni di categoria imprenditoriale e professionali per mettere a punto un decalogo di punti necessari al rilancio della città, verranno qui oggi per ascoltare in un luogo neutro. L'ascolto è un momento importantissimo, lo ha detto anche un paio di domeniche fa Papa Bergoglio, è un'attività non semplice. Il valore di questo pomeriggio è soprattutto il fatto che tanti ragazzi di provenienze diverse per competenze e per estrazione sociale abbiano avuto la volontà di lavorare insieme per il bene della nostra comunità, della nostra città. Abbiamo pensato che dovevamo necessariamente dare un contributo alla nostra città, in questo momento storico in cui evidentemente a valle della next generation, di queste grandi opportunità, di questo momento storico importante anche per la grave crisi economico-finanziaria che vive il Comune e la città di Napoli, abbiamo pensato di metterci insieme e presentare un decalogo con queste dieci proposte realizzabili in modo da poter cogliere appieno quella che è la grande opportunità.